Si dice preoccupato per gli ultimi fatti di cronaca a Napoli, in particolare l'attentato alla pizzeria Sorbillo, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, intervenuto a Napoli all'incontro del sabato delle idee a Ponticelli per inaugurare il campetto di calcio donato alla scuola della Fondazione Santo Bono. Propendo per un segnale diretto all'intero territorio, evidentemente anche al gruppo criminale contrapposto, un'indicazione chiara da questo momento siamo noi presenti e ci promuoviamo con questa strategia, ha detto Cafiero De Rao ed ha paragonato i raid camorristici di questo tipo a quelli del terrorismo. Propendo per un segnale al territorio, un segnale evidentemente al gruppo contrapposto, un'indicazione chiara da questo momento siamo noi presenti e ci muoviamo con questa strategia. Quindi credo che lo Stato in un caso come questo, che è quasi di terrorismo camorristico, debba intervenire con tutte le proprie forze e impedire che vicende di questo tipo non si ripetano.